Grazie di cuore, una domenica riposante, la squadra di un calcio a 5, Gesenatico, Gambettola, Castrocaro, Terme, Terre del Sole, Faenza, mi hanno detto vieni a Faenza che ti facciamo visitare, che c'è la festa del paese, a Faenza ho visto un parcheggio, perché per un'ora e un quarto sono sceso dalla macchina e c'era una marea di gente e non siamo riusciti a muoverci, bello così, devo dire che la Romagna dà sempre un calore incredibile e io penso che questo calore il 26 gennaio si trasformerà in una rivoluzione pacifica e finalmente dopo 50 anni li mandiamo a casa, ne sono assolutamente convinto, dopo 50 anni si cambia e poi il 27 gennaio comincia il lavoro perché un conto è il cambiamento, un conto sono i fatti, già oggi, lo diceva un collega giornalista, a me serve poi andare in giro perché alcune notizie o te le danno le donne, gli uomini in persona e oggi portiamo a casa i compiti che ci serviranno dal 27 gennaio, i compiti delle vacanze, quella mamma che chiedeva di ridurre le liste d'attesa per i bimbi malati di diabete perché non ci sono abbastanza soldi in regione Emilia-Romagna per dar retta a questi bambini, piuttosto che i disabili che pagano rette addirittura superiori alle persone cosiddette normali perché in regione Emilia-Romagna e diverse città mettevano la pensione di invalidità nel cumulo del reddito ISEE e quindi andavano a pagare i servizi che hanno tutti gli altri più di tutti gli altri, piuttosto che quel signore che ho incontrato a Cesionatico che ha chiamato in questi giorni un ospedale per una visita medica abbastanza urgente e gli hanno detto ci vediamo fra sette mesi e quindi capite che c'è qualcosina, anzi qualcosona da cambiare. Romagna poi è terra di fatica, di lavoro, non bisogna inventare niente perché avete dimostrato al mondo di saper fare tutto e di rialzarvi dopo tutto e tutti. Io ho il brutto vizio di venire da anni in vacanze in Romagna la sinistra mi ha rotto le palle perché vado in vacanza in Romagna perché se non vai in vacanza a Monte Carlo o alle Maldive non è abbastanza chic e allora l'anno prossimo cosa faccio? In estate torno in vacanza in Romagna e per far arrabbiare la Gruber vado in spiaggia in costume da bagno così almeno fa un'altra trasmissione, ma non è normale il ministro che va in mutande in spiaggia, no non vado in mutande vado in costume, si va con la tuta da sci in spiaggia, non so quelli di sinistra cosa fanno, però quando dico quelli di sinistra dico alcuni di quelli di sinistra perché anche oggi nelle piazze sia a Cesenatico che a Gambettola che a Castrocaro ho trovato tanta gente anche prima quando mi hanno fatto le foto a Faenza che mi hanno detto io per una vita ho votato a sinistra e ne ho trovati parecchie, sicuramente ce ne sono anche in questa piazza perché il nonno era partigiano, perché mio padre era operaio per tradizione, per cultura, però il signore che prima mi ha detto, però io che vengo da questa cultura del lavoro, della fatica, la cultura operaia, sto giro il 26 gennaio voto la Lega e non il PD perché ormai il PD è il partito dei banchieri e dei milionari e a pensare agli operai e ai precari è rimasta la Lega, agli artigiani, alle partite IVA, agli agricoltori e poi ho visto che Bonacini chiede soldi per aiutarlo in campagna elettorale ma io penso che il PD di soldi ne abbia presi parecchi in questi decenni, soprattutto dalle tasche degli emiliani e dei romagnoli, quindi non vedo l'ora che arrivi questo 26 gennaio, di là cosa dicono? Però non si può votare la Lega perché sennò arrivano i fascisti, arrivano i razzisti, arrivano gli alieni e arrivano le persone strane. Io non penso, oggi da stamattina avremo incontrato parecchie migliaia di persone, non abbiamo incontrato migliaia di fascisti, abbiamo incontrato e sto incontrando anche qua in piazza semplicemente tanti italiani orgogliosi di essere italiani che chiedono regole, sicurezza, ordine, legalità, diritti, lavoro, non robe straordinarie. Anche oggi ho trovato tanta gente che ha detto grazie e ogni tanto un grazie ti cambia le giornate, quindi vedrò di usarlo più spesso anch'io. Ne ho trovati tanti che mi hanno detto ad esempio grazie perché ero una vittima della legge Fornero e con quota 100 ho recuperato il mio diritto alla vita, il diritto alla pensione e il diritto al lavoro. Anche qua c'è qualche, lei signora offre da bere a tutti la signora, abbiamo trovata, anche lui metà per uno, anche lui tutti in pensione con quota 100 qua. Però il bello è che al posto di quei signori e di quale signore cominciano a lavorare dei ventenni che altrimenti avrebbero dovuto scappare dall'altra parte del mondo per cominciare a lavorare. Quindi se proveranno a toccare quota 100 dovranno passare sui nostri corpi in Parlamento per tornare alla legge Fornero. Siccome qualcuno degli sponsor di Bonaccini, penso al signor Cazzola, dice che quota 100 va cancellata e bisogna tornare alla legge Fornero, ci provassero a tornare alla legge Fornero non li facciamo uscire dal Parlamento giorno e notte, perché quota 100 non si tocca dal mio punto di vista. Diritto al lavoro, diritto alla pensione, diritto alla vita. E lavoro non è, come mi diceva quella ragazza oggi pomeriggio, lavoro non è un contratto di 15 giorni. Perché ormai ci stiamo quasi abituando al fatto che sia normale che ti danno un contratto di lavoro di 15 giorni e poi te lo rinnovano per 15 giorni, poi se fai il bravo per altri 15 giorni. Però tu con un contratto di 15 giorni, se vai in banca a chiedere il mutuo per prendere una casa, ti iniziano a ridere adesso e finisce. O sei amico degli amici, perché funziona così anche in quegli ambienti. E quindi non vogliamo una generazione precaria a vita. E la Regione su questo può far molto. Io ho incontrato i rappresentanti dei commercianti, degli artigiani, dei piccoli imprenditori, tutti i bandi regionali e i bandi europei sono costruiti per i grandi. E quindi queste decine di milioni di euro vanno ai grandi, che spesso non ne hanno bisogno, ma i piccolini per i quali magari quei 100 mila euro fanno la differenza non hanno visto una lira. Quindi noi lavoreremo senza far miracoli, perché non moltiplichiamo panni e pesci, però per mettere davanti prima i piccoli e poi i grandi. Una Regione Emilia-Romagna aperta a tutti, dove non è necessaria la tessera di partito per lavorare o per andare avanti a qualcun altro, o per essere promosso, o la tessera sindacale giusta. Se sei bravo vai avanti, se non sei bravo stai fermo. Non mi interessa se hai la tessera della Lega o non hai la tessera della Lega. Questa è una Regione fondata sul merito, aperta. E dopo 50 anni mancano 21 giorni. Ragazzi, tocca a voi. Perché io per caità, oggi poi dopo abbiamo Lugo, mi sembra, poi domani mattina ancora Lugo di Romagna, poi a Bologna. Domani sono contento perché sono a festeggiare la Befana, non con i miei bimbi che l'avrei fatto volentieri, ma in mezzo alle famiglie dei poliziotti a Bologna, perché chi indossa una divisa ha tutto il mio rispetto e dovrebbe essere stimato, tutelato e rispettato e non oltraggiato, spintonato o sputacchiato, come qualche fenomeno usa a fare. E nei decreti sicurezza abbiamo messo più soldi e più potere alle forze dell'ordine. Il governo PD 5 Stelle ha detto dobbiamo cancellare i decreti sicurezza, come su quota 100, dovrete passare sui nostri corpi per togliere quei soldi e quei poteri alle forze dell'ordine ai sindaci. Perché io voglio che i miei figli crescano in un paese dove si rispetta chi indossa una divisa e il rispetto si insegna già da piccolini. Chi indossa una divisa ma vale anche per i medici, non so se avete visto i telegiornali in questi giorni, ormai era sport nazionale, ho visto a Napoli fra medici e volontari del 118 tre aggressioni in tre giorni, in ospedale. Portare un po' di rispetto e se metti le mani addosso a un medico, a un pompiere o a un poliziotto, a un carabiniere, vai in galera come in tutti gli altri paesi civili. Finisci in galera come succede in tutti gli altri paesi civili, non è che chiediamo robe particolari. Mancano 21 giorni, quindi ragazzi conto su di voi. L'aria è straordinaria perché oggi abbiamo alla faccia di tutti gli analisti, gli intellettuali che vanno in televisione, i professoroni, qua si vince. Però c'è ancora tanta gente che è indecisa e io in questi 21 giorni conto su di voi perché un terzo dei romagnoli ancora non sa se vale la pena o non vale la pena andare a votare il 26 gennaio. Attenzione, il 26 gennaio non sono elezioni regionali perché se vinciamo in Emilia Romagna, se vincete in Emilia Romagna, cambia la storia d'Italia e cambia la storia d'Europa. Avete in mano la possibilità di fare una rivoluzione pacifica che in Italia non si vede da 50 anni. 50 anni. Io trovo tanta gente, anche prima ha detto un signorino, un voto da 10 anni e un altro mi ha detto da 20 anni. Perché mi dice cosa vuoi Salvini? Tanto qua si sapeva già subito come finiva. Quindi votavo, non votavo, la partita era già cominciata ed era finita prima del secondo tempo. Stavolta, dopo 50 anni, il voto di ogni donna e di ogni uomo può essere quello che fa la differenza. Stavolta chi sta a casa al 26 gennaio, poi perde il diritto al lamento per i prossimi 50 anni. Perché il treno della storia passa al 26 gennaio da qua, poi non passa al 27. Il lamento del 27 è tardivo. Noi abbiamo voglia di dimostrare quello che sappiamo fare e verranno a spiegare come governiamo in altre regioni Luca Zaia, Massimiliano Fedriga, Attilio Fontana. In Veneto, ad esempio, l'addizionale regionale IRPEF è zero. Per scelta del governatore della Lega, zero. La regione chiede zero tasse ai suoi cittadini e ai suoi imprenditori, zero. Quindi perché in Emilia invece ci sono aziende che aspettano da anni i rimborsi che aspetterebbero loro? Una bella sforbiciata alla burocrazia in regione Emilia-Romagna non la toglie nessuno. Essere un pochino più vicini ai cittadini. Io ho sentito imprenditori che vanno in pellegrinaggio a Bologna come fossero i Re Magi, a incontrare il mega assessore o il mega dirigente come fantozzi. Vado a Bologna come se uno dovesse andare in pellegrinaggio a Gerusalemme. No, una regione Emilia-Romagna aperta a tutti, dove non ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B e dove la Romagna non è una regione di serie B. Perché mi sembra che qualcuno la Romagna l'abbia è sempre considerata una regione di serie B da Bologna ed intorni. Quindi coinvolgere tutti senza cittadini più amici o cittadini meno amici. E poi mi sembra che noi abbiamo dimostrato in un anno che volere è potere. Lo diceva un giornalista che mi ha chiesto ma lei ha paura di un eventuale processo che le faranno? No. Se devo essere processato per sequestro di persona e rischiare 15 anni di carcere perché ho bloccato uno sbarco per difendere la sicurezza, l'onore e i confini del mio paese, l'ho fatto e lo rifarò finché campo. L'ho fatto a testa alta e se servirà andrò in tribunale a testa alta. E magari verrete a farmi compagnia a San Vittore. E se vi avanza una piada portatemi una piada. Ma qua non vanno in galera gli spacciatori e rompono le palle a uno che ha difeso i confini del suo paese. Mi sembra una roba da matti. Mi sembra una roba che se qualcuno di voi domani volesse andare in Canada, in Australia, in Svizzera, in Germania, in Inghilterra, in Arabia Saudita o in Nigeria, non è che arriva con la barca a vela e lo fanno entrare. Vi chiedono, provateci perché tanti lo stanno provando ad esempio in Australia o in Canada. Conto corrente quanti soldi hai in banca, che titolo in studio hai, che lavoro fai, che fedina penale hai e ti faccio anche la visita medica per vedere se stai bene o se stai male. È giusto così perché i confini di un paese sono sacri. Ed entri a casa mia se suoni il campanello e chiedi per favore. Così funziona in un paese normale. Eh bravo, intanto mi processano. Però chi se ne frega, se avessi voluto una vita comoda facevo il Bonaccini. E invece non... Mi piace la vita scomoda e quindi... Poi, leghista e pure milanista. Destinato... Condividiamo le sofferenze, amico mio. Però almeno la Befana ci ha portato Ibrahimovic. Quindi due gol magari... Anche se devo dire che l'uomo di sport che ha segnato questo 2019 per quello che mi riguarda da sportivo e da uomo è Sinisa Mijailovic perché ha due palle così. Quindi onore all'allenatore, onore all'uomo e al guerriero. In bocca al lupo, non la faccio lunga. Alzi la mano, però alzi la mano solo con... Poi chi coricandosi la sera in queste venti notti ritieni poterlo fare? Perché tanto so che domani è festa ancora, però da martedì in fabbrica, in negozio, al bar centrale, a scuola, in ufficio, in edicola, in posta... Io ho bisogno che voi parliate. Non vi chiedo miracoli. Parliate per scaldare un po' di testa e soprattutto un po' di cuori perché o si cambia adesso o la storia la si vive da protagonisti adesso oppure il treno non passa più. E voi sicuramente fra le vostre conoscenze, ma anche fra i vostri amici, fra i vostri parenti... Prima una signora mi ha fatto la foto dicendo aiutami a convincere mio marito a votare lega. Signora, sicuramente più argomenti lei di me a convincere il suo marito. Io non è che... Però lei secondo me a occhio qualcosina per convincere il marito potrebbe usarla come stratagemma. Alzi la mano chi ritiene in questi 21 giorni di poter svegliare qualcuno che pensa di starsene a casa e portarlo a votare lega e Lucia Borgonzoni. Se mantenete l'impegno di questa sera abbiamo già vinto e quindi vi dico grazie dal profondo del cuore. Grazie perché dipende da voi. E poi che chi è lassù che dia una mano non a un partito. Io non mi sono mai permesso di chiedere l'aiuto per chi crede dall'alto per un partito. Però per un popolo sì. Perché in ballo non c'è solo una questione economica, la legge Fornero, la legittima difesa, la flat tax. In ballo ci sono anche due visioni del mondo diverse, due visioni della vita diverse. Da una parte secondo me c'è un po' troppa rabbia, odio, invidia sociale e quindi se il mio vicino di negozio ha successo, se il mio vicino di studio ha successo, lo guardo in Cagnesco e quindi chi lavora in proprio deve essere massacrato e sulle tasse, sulla burocrazia, sulle manette, pensano di combattere l'evasione fiscale con le manette. L'unico modo per combattere l'evasione fiscale è abbassare le tasse a chi paga le tasse. Non ci sono altri modi per combattere l'evasione fiscale. O arresti tutto il paese oppure gli rendi possibile e conveniente pagare le tasse, altrimenti non ce la fai. Quindi da una parte c'è la rabbia, le piazze contro. Oggi migliaia di persone ne ho visti due contro. Uno che mi augurava la galera, mi allunga la vita, era una ragazza, contenta lei, contenti tutti. E un altro che mi urlava nell'orecchio siamo tutti clandestini, siamo tutti clandestini. Sarei tu clandestino. Anche perché quando dico prima gli italiani, io considero italiani anche i tanti immigrati regolari e per bene che sono qua con i documenti in regola, pagano le tasse, mandano i figli a scuola e rispettano il prossimo. A me non interessa il colore della pelle o dove uno è nato, a me interessa come uno si comporta. E quindi le donne che scappano dalla guerra sono nostre sorelle, spacciatori, scippatori e stupratori tornano al loro paese col primo barchino a disposizione. Io la penso così, non è che possiamo accogliere i delinquenti di tre quarti di mondo per dire che poi andiamo a messa, siamo buoni, siamo buoni. No, siete schiavisti. Perché poi a questa gente serve sfruttarli nelle cooperative pagandoli due euro all'ora per sostituire i lavoratori italiani che magari chiedono qualche diritto in più. Quindi non vogliono essere accoglienti, vogliono sfruttare l'essere umano. In bocca al lupo. Non la faccio lunga però vorrei che tornando a casa stasera vi portaste dietro per quanto può valere però è quello che vi posso offrire il mio grazie per averci dedicato il vostro tempo che è prezioso. Parte di una domenica di festa di gennaio invece di essere a casa essere qua. Quindi grazie di cuore. Viva la Romagna, viva l'Italia, viva la libertà e viva la Lega. E grazie per quello che farete. E il 26 gennaio si va a vincere. Si va a vincere. In bocca al lupo a tutti. Buona fortuna e buona vita. Aspetta, qualcuno vuole fare un selfie? Bene, là in fondo arrivano Renzi e Bonaccini, quindi andate pure là. Da che parte si entra? Senza spingere, alla vostra destra ovviamente, a sinistra... Le mei de là, le mei de là. Chi è intonato alzi la voce.